Spuntano dei retroscena riguardanti quattro cantanti, che hanno preso parte alla seconda edizione dell'evento musicale di Rai 2. Questa estate Tim Sammeritz, è tornato a intrattenere il pubblico di Rai 2, e di Rai Radio 2. Le tre serate dell'evento musicale, ospitano diversi artisti, e in queste ore arriva un'indiscrezione riguardante quattro di loro. Dago Spia fa sapere che dietro le quinte della seconda edizione, ci sarebbe stato grande affiatamento tra due cantanti, Achille Lauro e Ana Mena. Pare, dunque, che tra i due ci sia stato un avvicinamento non passato inosservato lontano dalle luci dei riflettori. Sarà in corso qualcosa in più di un'amicizia tra loro? Solo il tempo potrà dare delle risposte. Non solo, vengono citati da Dago Spia anche Tananai e Angelina Mango, tra i quali ci sarebbero stati degli sguardi. Solo amici? Bisognerebbe chiedere ai conduttori Neck e Andrea De Lobu, si legge. Va, però, subito precisato che Tananai e Angelina sono entrambi già impegnati sentimentalmente. Un gossip che va preso con le pinze, dunque, anche perché non ci sono prove effettive. Non è la prima volta che la cantante, figlia di Mango ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi, finisce al centro del gossip. Per diversi mesi sono circolati sul suo conto vari scoop che la vedevano ormai innamorata di Wax, suo ex coinquilino nel talent show di Canale 5. Gli sguardi e la complicità tra loro hanno fatto parecchio parlare tra i telespettatori. Molti fan erano proprio convinti che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia. A mettere un freno le voci ci ha pensato Maria di Filippi.